Se anche le foglie del tuo limone diventano così nere che toccandole addirittura ti macchi le mani, sei nel posto giusto, sei nel video adatto. Oggi vediamo con tre semplici sistemi naturali e biologici come possiamo tranquillamente risolvere questo problema, ma faremo qualcosa di più, cercheremo di capire perché si crea questo nerofumo, si chiama fumagine, e cercheremo di prevenirlo in modo che questo problema nel futuro non si ripresenta, non ti rimane altro che mettermi un bel pollice in su e continuare a guardare il resto del video. Per prima cosa cerchiamo di capire perché e come si crea questa sostanza nera che aderisce alle foglie, una volta che lo abbiamo capito almeno non ce l'avremo più tra i piedi. Questa fuligine non la troviamo solamente sul limone ma anche su tutti gli altri agrumi come il mandarino, il mandarancio, il cedro, il pompelmo, gli aranci ed anche sulle altre sempreverdi come ad esempio l'alloro ed il corbezzolo. Le piante durante la bella stagione primavera, estate ed autunno vengono spesso attaccate dagli insetti. Stiamo parlando degli insetti che succhiano la linfa della pianta per nutrirsene e stiamo parlando quindi degli afidi, della cocciniglia cotonosa e del Aleurocanthus spiniferus, che è questo piccolo insetto che stiamo vedendo qui davanti a voi, e come scarto della loro alimentazione lasceranno una sostanza appiccicosa e zuccherina sulle foglie, si chiama melata. Su questa sostanza zuccherina con il tempo crescerà un fungo microscopico che con il tempo diventerà nero, è proprio quello che stiamo osservando qua, è la fumaggine. Abbiamo quindi capito che se non vogliamo la fumaggine sulla pianta non dobbiamo neanche avere questi fastidiosi insetti succhiatori. In tal proposito vi sto mettendo qui in alto il link del video che con sei modi semplici e biologici ve ne potete sbarazzare. Adesso che abbiamo capito come non far ripresentare la fumaggine sull'albero bisogna anche togliere quella che abbiamo qui di fronte. Vi faccio vedere tre sistemi semplici semplici naturali e biologici. Il primo, il più semplice, è solamente con acqua, acqua ad alta pressione. Non so se ci avete mai fatto caso, ma durante una nottata umida, magari perché ha piovuto, perché c'era nebbia o ruggiata, se vi avvicinate vicino alla vostra pianta piena di fumaggine prima che il sole l'asciughi, vedrete che la fumaggine si sta già sciogliendo per conto proprio. Potremo quindi sfruttare questo aspetto qui, facciamo un trattamento in tarda serata solo con acqua sulla nostra pianta, in modo che tutta la notte la pianta rimane umida e la fumaggine inizia ad ammorbidirsi, inizia a sciogliersi. Il mattino successivo, a buon'ora, prima che sorga il sole, prima che la pianta si asciuga, facciamo un bel trattamento con acqua tiepida. Prendiamo un elettropompa ad alta pressione e laviamo bene la nostra pianta, in modo abbondante. Vedrete che la maggior parte della fumaggine si scioglierà da sola, all'occorrenza potremo ripetere questo trattamento altre due o tre volte. Un altro sistema simpatico e carino è questo qui, facciamo sempre il trattamento con acqua la sera sulla nostra pianta, in modo che tutta la notte l'acqua inizia ad ammorbidire la fumaggine. Il mattino successivo facciamo un trattamento con questa soluzione, prendiamo il latte, si bene il latte, va bene anche il latte quello che si compri al supermercato, non ha importanza se è uno scremato, un parzialmente scremato, oppure è intero, la dose è tre quarti di acqua ed un quarto di latte. A questo punto facciamo un bel trattamento alla pianta, in modo abbondante facciamolo sgrondare questo trattamento e vedrete che la maggior parte della fumaggine si scioglierà, inoltre le proteine del latte avranno un effetto inibitorio contro il fungo della fumaggine. Il terzo ed ultimo consiglio che vi do per sciogliere la fumaggine è quello di utilizzare il sapone molle potassico. Si fa così, primo trattamento solo con acqua, come abbiamo visto finora, in tarda serata bagniamo la pianta e aspettiamo il mattino successivo in modo che la fumaggine solo con l'acqua già inizia a sciogliersi. Il mattino di buon'ora facciamo un trattamento fatto con queste dosi, un litro di acqua e 10 millilitri di questo sapone molle potassico, che è un sapone assolutamente biologico. Fate un trattamento abbondante sulla pianta e vedrete che la fumaggine inizierà a sciogliersi anche sotto l'azione del sapone. Vedrete che la pianta pian piano tornerà bella, lucida, verde e brillante come prima, fresca e rigogliosa. Io vi saluto così cari amici miei, ci vediamo alla prossima, mi raccomando sempre prodotti biologici. Un saluto a tutti da Pier Giorgio.